cari amici di mille un'avventura ci siamo messi in testa di imparare un nuovo per noi linguaggio di programmazione cioè il linguaggio rust ricorderete questo video in cui abbiamo portato un esempio zemeroth questo gioco a turni che avviene su una scacchiera esagonale che è stato realizzato proprio con rust e ci è già stato detto che non sarà facile capire come funziona perché è un linguaggio molto sicuro certe cose che magari siamo abituati a fare in modo un po sportivo su altri linguaggi qui non sono consentiti ma prima di iniziare a vedere un esempio i primi passi per imparare questo linguaggio ovviamente partiamo dalla sigla chi ci ha avvertiti che non sarà facile capire come funziona questo linguaggio e perché è così potente che consente di creare del codice assolutamente sicuro e funzionale rispetto ad altri linguaggi dove i bug si sprecano ecco dice renato in questo commento sotto al video ci sono alcuni pilastri di rust borrow checker lifetime moving zero cost abstraction eccetera cose che nessun altro linguaggio ha l'approccio è quello di capire come usarli altrimenti sarà impossibile programmare solo per il fatto che la compilazione verrà interrotta e allora consapevoli di queste problematiche magari siamo abituati come hobbisti a programmare un po così come capita andiamo a scoprire rust come funziona e per farlo seguiremo un approccio non complicato come quello del gioco su una scacchiera esagonale ma proveremo a realizzare seguendo questo tutorial troverete qui sotto il link in inglese ma è comprensibilissimo come realizzare un'avventura testuale in rust quindi mettiamo assieme le nostre passioni la programmazione le avventure testuali d'altra parte il canale si chiama mille e una avventura e questo tutorial creare un'avventura testuale in rust è mutuato è recente vedete i primi post sono del 19 agosto 2022 quindi sono stanno quasi per passare due anni ma tutto parte da quest'altro tutorial come programmare un'avventura testuale in c vi linko anche questo ma noi il c lo conosciamo già e ci sono tutte quelle problematiche coi puntatori con la gestione della memoria che invece rust permette di risolvere brillantemente dopo aver capito ovviamente come funziona quindi se volete c'è la versione in c di questo tutorial la versione in rust è quella che interessa a me ed ecco qui da cosa partiremo se vi interessa si può fare anche un tutorial su come in pochi passi installare rust sul proprio computer ma mi sembra che sia più facile per chi magari comincia ad approcciarsi a questo linguaggio usare il rust playground cioè questa pagina online su cui possiamo scrivere del codice rust compilarlo e vederlo in esecuzione il link trovate qui sotto e piano piano cominceremo a scrivere del codice in questa pagina non c'è neppure bisogno di installare rust ovviamente se vorrete produrre dei programmi che girino sotto windows sotto linux e altri sistemi operativi o addirittura dei programmi in web assembly che girino in una normale pagina di un browser web beh lì dovete proprio installare rust chiedete qui sotto nei commenti se vi interessa un tutorial su come installarlo ma è talmente semplice che non è neppure il caso di di farne uno poi ce ne sono già tanti altri online quindi potete arrangiarvi in altro modo ora c'è questa bella pagina qui c'è un mega pulsante run posso anche ingrandire un po di più così vedete tutto per bene clicchiamo su run per vedere che succede non c'è assolutamente scritto nulla qui e cosa capita ecco andiamo a ridurre perché altrimenti non si legge dice sto compilando questo playground e dice manca la funzione main in questo crate playground i crate questi sono i contenitori che contengono del codice rust hanno questo nome manca la funzione main ovviamente in tutti i linguaggi di programmazione a parte qualche eccezione se noi vogliamo creare un programma dobbiamo anche dire questo programma da dove deve iniziare e allora scriviamo in questa avventura testuale che in questo primo video ovviamente si ridurrà a pochissimi passaggi andiamo a scrivere la funzione main eccola qui innanzitutto vedete che in rust le funzioni si indicano con fn molto stringata come notazione fn è la funzione la parte di codice che noi vogliamo eseguire all'inizio del nostro programma devo chiamarla main non argomenti nelle parentesi eventualmente delle funzioni si mettono i dati che vogliamo passargli e poi notate che c'è del codice racchiuso tra parentesi graffe anche rust è uno di di quei linguaggi che usano le parentesi graffe per racchiudere pezzi di codice dopodiché osservate cosa c'è scritto qui println punto esclamativo e poi dei testi e dei testi che se ora andiamo a eseguire tutto quanto sono semplicemente i testi che verranno stampati sullo schermo ecco vediamo un po' quello che è successo ha compilato tutto ha ottimizzato ha fatto quello che doveva fare e il programma ha scritto la scatola misteriosa un'avventura testuale e poi la scritta ti svegli nel buio più assoluto è praticamente il titolo della nostra avventura testuale e la prima scena non c'è ancora nulla ovviamente in questa scena perciò diciamo che si riduce tutto a pochissimo che cosa notate innanzitutto queste println punto esclamativo ecco in rust si distingue tra funzioni e macro e questo è già un primo concetto che ora citiamo solamente per spiegare come mai compaiono questi punti esclamativi ecco le macro in realtà sono non propriamente delle funzioni ma dei modi come ci spiegano per creare del codice che può essere modificato quindi le macro che cosa sono eccole un modo per scrivere del codice che scrive altro codice ecco spiegato qui sotto in questa paginetta ora non vogliamo arrivare come prima cosa a questo livello diciamo che rispetto a una funzione normale che ha bisogno di un certo numero di argomenti se ne ha di valori che gli vengono passati le macro possono avere un numero variabile di argomenti e servono per generare del codice che il compilatore poi va a sviluppare quindi non preoccupatevi inizialmente su cos'è questo println è una macro ma facciamo finta che sia una funzione una funzione che semplicemente va a scrivere sullo schermo il testo che gli specifichiamo qui notate ho scritto la scatola misteriosa usando le virgolette con questi slash ma perché arrivo dal c dal dal javascript insomma probabilmente ci sono modi più furbi per fare questa cosa qui dovevo scrivere la scatola misteriosa tra virgolette come titolo e allora oltre alle virgolette che racchiudono le stringhe il testo che deve essere stampato ho dovuto specificare che qui dentro c'è una virgoletta e si fa di solito col back slash in tanti linguaggi di programmazione poi vedete che qui c'è un println dove c'è una stringa vuota quando abbiamo due virgolette la stringa vuota si poteva benissimo fare anche in questo modo in fondo a un'avventura testuale aggiungere back slash n questo perché è un una convenzione un simbolo che ci dice vai a capo comunque se conoscete altri linguaggi di programmazione queste convenzioni qui sicuramente le avete già viste abbiamo quindi stampato solo dei caratteri sullo schermo ecco qui il risultato la scatola misteriosa eccetera ora se fosse tutta qui la nostra avventura testuale non farebbe nulla però adesso vogliamo che vengano elaborati dei comandi che inseriremo da tastiera andiamo a vedere come possiamo creare il codice che realizza tutto questo innanzitutto andiamo ad aggiungere una prima variabile che si chiama comando e questo comando sarà ciò che noi avremo scritto da tastiera che cosa deve essere realizzato in un'avventura testuale i nostri comandi sono delle frasi che noi possiamo scrivere per ora ci li mettiamo a inserire un verbo e l'oggetto a cui quel verbo si riferisce per esempio esamina scatola esamina stanza cose di questo genere oppure guarda l'oggetto ecco il nostro comando sarà suddiviso in due parti verbo e oggetto a cui quel verbo si applica e poi vogliamo che la nostra azione restituisca una risposta che chiameremo output ora guardate come si in rust come si definiscono le variabili cioè dei contenitori che contengono dei dati e si usa la parola chiave let e se quella variabile deve contenere qualcosa che può essere modificato dal codice che segue bisogna specificare esplicitamente che quella variabile è mutable mut vuol dire che può cambiare il contenuto nel corso del programma se noi scrivessimo semplicemente let comando ecco quella sarebbe una costante perciò mentre nei normali linguaggi di programmazione le variabili sono effettivamente variabili e quindi si definisce una determinata variabile che poi potrebbe cambiare per maggior sicurezza in rust se vogliamo che quel contenuto cambi lo dobbiamo dichiarare esplicitamente applicando la parola chiave mutabile e in questa variabile mutabile quindi sì adesso sono abituato dire variabile però bisognerebbe evitare perché variabile mutabile come dire la stessa cosa quindi questo contenitore mutabile è posto uguale a un oggetto che adesso andiamo a vedere come si costruisce che un oggetto di tipo comando che non ho ancora definito si crea un nuovo oggetto di tipo comando e si va a mettere nella variabile comando ora la stessa cosa la facciamo con output solo che più semplicemente output non mettiamo ancora il valore che contiene ma specifichiamo che è una stringa cioè un insieme di caratteri ecco notate che qui non ho scritto così avrei potuto specificare che questo mutabile che si chiama comando è di tipo comando e poi dopo l'uguale si inserisce già il valore iniziale di questa mutabile non è necessario scrivere due punti comando perché rust inferisce capisce che tipo è questo comando new che cosa che oggetto viene passato mentre qui dove non specifichiamo il l'oggetto da memorizzare dobbiamo scrivere due punti string questa è la prima parte cominciamo a definire alcune variabili ma andiamo a costruire il nostro comando vediamo come si può realizzare qualcosa che contenga un verbo e un oggetto a cui quel verbo si applica ed ecco il nostro oggetto che viene definito come struct ricorderete se avete visto un po di c studiato un po di c le strutture le struct che sono semplicemente degli oggetti chiamiamoli pure così che contengono dei campi delle proprietà e qui le proprietà della struct comando sono la proprietà verbo che è definita come una stringa di testo e la proprietà oggetto che è definita come stringa di testo poi questi pub che vedete qui in effetti si potrebbero mettere anche in altri posti servono per dire che queste proprietà possono essere accessibili anche all'esterno di questo crate di questo nucleo di codice quindi pub sta per pubblico chiunque può accedere a questi campi a queste proprietà ci sono tanti termini che si possono usare in rust non so quali sono siano i termini preferiti io vado un po così a caso e allora adesso dopo aver definito questa struttura bisogna renderla un po più malleabile più utilizzabile perché questo comando new deve sapere cosa fare di questi di questi oggetti come riempire il verbo come riempire l'oggetto a cui il verbo si riferisce e quindi costruiamo l'implementazione di questa struttura quali sono le funzioni che possono essere applicate per lavorare su queste proprietà e la prima che dobbiamo definire è la funzione new quella che vedete che viene usata qui per creare il comando vero e proprio con tutti i suoi dati come funziona la funzione new vedete che innanzitutto c'è sempre fn all'inizio c'è il nome della funzione che però all'interno di questa implementazione perciò una funzione che si applica solo a oggetti di tipo a strutture di tipo comando e notate che seguito qui da fn new non c'è subito la graffa come succedeva per la funzione main c'è un trattino col simbolo di maggiore quindi una freccia con due caratteri che specifica qual è il valore restituito da questa funzione è un valore di tipo comando quando io vado a su questa strutt a richiamare la funzione new avrò come risposta un comando ben strutturato e come fatto questo comando lo vedete qui praticamente si dice che si crea una struttura comando che contiene un verbo e questo verbo come fatto è una stringa nuova creata pronta per l'uso e oggetto anche è una stringa nuova ovviamente saranno stringhe vuote visto che non abbiamo specificato il contenuto quindi questa new crea un comando una struttura inizializzata però un comando va anche interpretato e allora dobbiamo aggiungere una funzione che interpreti il nostro comando vediamo come si può realizzare ecco qui fn interpreta l'abbiamo chiamata così cosa fa questa funzione deve prendere il una stringa che noi abbiamo inserito da tastiera quindi una serie di caratteri e deve leggere questa stringa andando a completare nella struttura comando qual è il verbo e qual è l'oggetto per fare questa cosa esistono delle particolari funzioni che sono contenute all'interno di rust che sono già disponibili e che hanno proprio lo scopo di lavorare su stringhe per esempio andiamo a vedere questa prima riga qui allora cosa farà la funzione interpreta che poi useremo e vedremo come viene utilizzata beh questa funzione va a prendere un riferimento alla mutabile comando quindi immaginate di aver creato il comando e noi vogliamo passare a questo comando una stringa ma vogliamo riempire i suoi campi le sue proprietà verbo e oggetto allora andiamo a prendere un riferimento al comando che vogliamo riempire e nella funzione interpreta passiamo anche una variabile che si chiama input str che in realtà è una costante perché non andiamo a modificare questa sono troppo abituato a dire variabile quindi mi scuseranno i puristi però c'è questa casella che contiene una stringa e gli diamo il nome input str che conterrà un riferimento alla stringa che avremo scritto da tastiera che cosa ne facciamo a questa input str andiamo a togliere tutti i caratteri spazio inutili la funzione trim che esiste in tanti linguaggi di programmazione fa proprio questo mettete che io abbia scritto spazio 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 e poi leggi il biglietto ecco tutti gli spazi iniziali danno fastidio trim li elimina perché non ci interessano tiene solo i caratteri che hanno senso e poi dopo che abbiamo ripulito la nostra stringa di input da tutti i caratteri superflui cosa viene fatto al risultato vedete questo punto split white space viene preso la stringa e viene spezzettata in tutte le parole che contiene per esempio se fosse leggi il biglietto oppure esamina la scatola questa funzione split white space separa la stringa in leggi poi il poi biglietto spezzetta la stringa in tante stringhe e in realtà non restituisce direttamente questa spezzettatura ma fornisce un iteratore cos'è un iteratore è una particolare un particolare oggetto che permette di seguire una sequenza di per esempio stringhe in questo caso infatti cosa succede subito dopo vedete che c'è split input iter che è l'iteratore che abbiamo ottenuto qui sopra grazie a split white space gli si va applicare la funzione next che va a prendere il primo oggetto puntato dal letteratore fosse leggi il biglietto meglio facciamo leggi biglietto punterebbe a leggi la prima stringa gli si fanno alcune modifiche che purtroppo adesso non stiamo lì a perdere tanto tempo a spiegare tutte queste funzioni perché sono quelle che dobbiamo usare per leggere le stringhe e si trasforma in una stringa praticamente in self punto verbo verrà memorizzata la stringa leggi e si rifà la stessa cosa vedete di nuovo next con la seconda parte della stringa e quindi in self punto oggetto verrà memorizzato biglietto leggi biglietto se io avessi scritto leggi il biglietto questo codice non ancora ottimizzato per cose di questo genere avrebbe messo in verbo leggi come deve essere ma nell'oggetto avrebbe messo il quindi evitiamo per il momento gli articoli leggi biglietto funzionerebbe con questo codice la stringa verrebbe interpretata e si otterrebbe un oggetto comando una struttura comando che contiene leggi come verbo e biglietto come oggetto oppure esamina scatola esamina come verbo la stringa scatola come oggetto ecco questo è il metodo che ci permetterà di interpretare la stringa che avremo scritto ma adesso cosa bisogna fare ovviamente dobbiamo leggere l'input immaginate di aver scritto la vostra riga di comando e dobbiamo leggerla ora per realizzare questa funzione purtroppo dobbiamo ricorrere a un po di funzioni aggiuntive e che si trovano in una libreria chiamiamola così uso proprio i termini normali dovrei usare quelli di rust ma chiamiamola libreria che si chiama std io la vedete lassù evidenziata e poi si specifica self write per andare a recuperare certe funzioni che ci serviranno nel seguito quindi a parte questi particolari che bisognerebbe approfondire proviamo però a vedere come si realizza la lettura della linea di input del linea di comando notate la prima riga che vedete qui fn è una funzione che si chiama leggi input non accetta argomenti ma restituisce un comando noi scriveremo e il comando verrà prodotto proprio da questa funzione ora come avviene in tutte le normali avventure testuali noi il comando adesso non so perché qui facciano questa cosa qua si potrebbe fare molto più semplicemente in altro modo quindi potremmo fare semplicemente così però si vede che qualcuno preferisce print stringa vuota invece di scrivere semplicemente backslash n allora questo è il prompt della linea di comando il simbolo di maggiore come si usa nelle solite avventure testuali e con questa funzione qua così complicata semplicemente si manda la stampa a schermo per vedere appunto che il computer sta aspettando il nostro comando dopodiché con questa altra stringa vedete let mutable creiamo una nuova stringa che si chiama input str praticamente è la variabile possiamo dire in cui memorizzeremo la stringa che abbiamo inserito a questo punto la dobbiamo però leggere e a questo scopo esiste questa io st di in praticamente è il canale di input la tastiera in cui andiamo a leggere mediante la funzione red line una riga di testo con red line noi praticamente scriveremo daremo invio e quello che avremo scritto verrà memorizzato in questo input str che abbiamo passato come riferimento alla nostra funzione red line qui sotto poi vedete c'è questo expect inserisce un comando perché la funzione red line oltre a restituire un risultato e questo è importante in rust può restituire anche una situazione di errore capita spesso in rust di per maggior sicurezza di dover verificare se è capitato qualcosa che non andava e invece di usare try catch o cose di questo tipo che trovate in altri linguaggi di programmazione ecco qui si può usare expect e poi si scrive una stringa per dire guarda c'è stato un errore aggiusta le cose e dopodiché di nuovo con println andiamo di nuovo a capo nella scrittura bene qui abbiamo semplicemente con queste righe piuttosto complicate la prima volta che si vedono letto ciò che abbiamo scritto e memorizzato in input str ora dobbiamo creare il nostro comando che deve essere restituito come dicevamo dalla funzione leggi input e come facciamo creiamo un nuovo comando con comando new memorizziamo questa struttura nella variabile comando dopodiché usiamo la funzione che abbiamo creato prima che è semplicemente la funzione interpreta questo comando è vuoto noi diciamo a questo comando di interpretare la stringa input str che andiamo a interpretare proprio come stringa qui c'è una funzione particolare che traduce questa stringa proprio come ciò che è stato restituito dalla funzione redline la traduce in una stringa e infine vedete qui c'è scritto comando ecco non c'è scritto return comando alla fine della nostra funzione specifichiamo che il risultato di tutto questo restituito dalla funzione sarà proprio l'oggetto la variabile comando che abbiamo creato la struttura che abbiamo creato viene restituita e qui ci sono tanti concetti perché questa restituzione passa il controllo di quella parte di memoria a dell'altro codice quindi non è così banale come può sembrare tutto ciò che è dietro a rust andrebbe approfondito ovviamente piano piano cercheremo di farlo quindi la funzione leggi input prende il nostro comando e restituisce la nostra stringa di testo che avremo scritto e lo fa diventare un comando che poi viene interpretato e come viene interpretato il nostro comando ovviamente viene interpretato da una nuova funzione che si occuperà di eseguire determinate azioni una volta che avrà capito cosa vogliamo fare la funzione l'abbiamo chiamata aggiorna stato prende come argomento un comando quello che avremo inserito noi e che è stato elaborato e restituisce in risposta una stringa la risposta che a seconda del comando che avremo inserito sarà più opportuna e allora cosa possiamo fare innanzitutto creiamo una costante stringa che si chiama output costante perché la inizializzeremo una volta sola adesso vedremo come non è necessario anzi non è opportuno renderla mutabile perché non ha senso è inizializzata una volta sola e non la modifichiamo più quindi è una costante una costante che però abbiamo solo dichiarato come stringa all'inizio e adesso dobbiamo specificare cosa c'è dentro e c'è questa istruzione interessante che si chiama match match che cosa fa ricorda un po switch di altri linguaggi di programmazione prende il nostro comando quello che abbiamo passato come argomento di quel comando all'interno della struttura va a prendere la stringa verbo che potrebbe essere leggi esamina no quello che abbiamo scritto e la va a leggere come stringa quindi restituisce dei caratteri e questi caratteri a seconda del loro valore daranno un risultato per esempio qui c'è quit io potrei dire sono stufo di giocare scrivo quit che di solito il comando anche nell'avventura testuale in italiano che si può usare se no smetti no qualcosa del genere poi c'è un comando guarda un comando vai e poi con questo underscore si va a specificare che cosa si deve fare se match non funziona con i primi confronti perciò è molto pratica l'istruzione match perché ci permette di fare un elenco di azioni a seconda del valore qui della nostra di ciò che abbiamo passato e dopo uguale maggiore vedete questo simboletto non è più trattino maggiore ma uguale maggiore viene eseguito ciò che segue che semplicemente è mettere nella costante output il risultato di questo format format adesso potremo andarlo anche a vedere che cos'è ma è un'altra macro come print solo che prende delle stringhe di testo e le elabora opportunamente e le elabora opportunamente questo caso in pratica non fa nulla perché semplicemente mette in output il testo ci rivediamo la prossima volta quindi noi scriveremo quit e l'avventura ci dice ci rivediamo la prossima volta e probabilmente il programma cesserà si fermerà se scriviamo invece guarda visto che nella nostra avventura testuale c'è buio pesto non si vede nulla non stiamo ancora facendo nulla in output metteremo è buio non si vede nulla se scriveremo vai è troppo buio per muoversi se nessuno di quei comandi di quei verbi sarà stato dato ma qualcos'altro ecco la potenza di format andremo a scrivere non capisco il verbo e tra virgolette vedete che ci sono queste parentesi graffe quelle parentesi graffe vengono riempite con il contenuto di ciò che segue che in questo caso è comando punto verbo se ho scritto salta per esempio come comando il programma scriverà non capisco il verbo salta questa è la utilità delle delle macro potremmo qui mettere una stringa con tante parentesi graffe e che vengono riempite con il numero variabile di comandi che seguono senza dover specificare per forza un diciamo un elenco stabilito di variabili comunque funziona così benissimo allora il nostro output è stato definito a seconda del verbo che avevamo scritto e viene alla fine vedete scritto output per restituire dalla funzione aggiorna stato la stringa che avrei che sarà stata elaborata a questo punto non resta che aggiornare lo schermo stampare tutto questo a schermo e quindi creiamo la funzione aggiorna schermo che prenderà l'output la stringa che è stata generata prima e la stamperà di nuovo come abbiamo visto prima println punto esclamativo che è una stringa che contiene solo le parentesi graffe parentesi graffe che si occupano di recuperare ciò che c'è nella stringa output e di stamparla sullo schermo dando anche un a capo visto che abbiamo usato println queste sono le funzioni che ci servono ma in effetti non vengono richiamate ancora come possiamo fare per richiamarle dobbiamo inserire del codice nella funzione main che vada a utilizzare le due variabili che abbiamo appena scritto e che le utilizzi e come le utilizza vedete che abbiamo aggiunto queste poche righe qui subito dopo la dichiarazione di comando come comando e di output come stringa abbiamo usato while while vuol dire mentre mentre una condizione soddisfatta continua a eseguire il codice che è compreso tra le parentesi graffe che vedete qui ora qual è la condizione beh se il comando che abbiamo dato ha un verbo che è diverso da quit continuerà questo ciclo a essere eseguito è in sostanza il game loop che c'è in tutti i giochi una serie di istruzioni che continuamente vengono eseguite leggendo l'input del giocatore e mostrando le conseguenze di quell'input e qui usiamo le funzioni che avete visto prima dentro alla variabile comando che è mutabile abbiamo detto viene messo leggi input il risultato di leggi input che abbiamo spiegato prima e ad ogni ciclo dentro a comando finirà un'altra un altro comando per questo deve essere mutabile in output invece verrà inserito il risultato di aggiorna stato che è quella funzione che prende il comando e decide cosa stampare a schermo per far capire al giocatore che cos'è avvenuto e poi abbiamo separato la funzione aggiorna schermo che si occuperà di stampare a schermo il risultato quindi abbiamo separato un po queste queste competenze in modo un po più strutturato perciò si legge l'input si va a capire cosa si deve fare dopo aver letto quell'input si aggiorna lo schermo e si ripete il ciclo bene a questo punto non ci resta che provare la nostra avventura testuale nel buio più assoluto non potremo fare nulla ma vediamo se di base funziona dopodiché in un futuro video probabilmente andremo ad affinare tutte queste cose per fare qualcosa di più interessante quindi andiamo ad eseguire cliccando su run ed ecco quello che sta succedendo abbiamo compilato qui vedete questi puntini vuol dire che il programma sta attendendo il l'input dietro di me c'è il pulsante send perciò è costruito tutto quanto questo playground per poter stampare a schermo ciò che viene scritto da print e andare a leggere i contenuti di ciò che mette il giocatore nella tastiera su questa riga in basso ovviamente se andaste a compilare tutta questa parte di codice con le normali tecniche che si usano in rust avreste il vostro programmino su windows che funzionerebbe in console però magari guardiamolo qui perché è più più rapido allora vedete che c'è il prompt qui questo prompt sta aspettando che diamo un comando e allora ci siamo svegliati nel buio più assoluto proviamo a guardare intorno ho scritto guarda e la risposta è stata è buio non si vede nulla ciò che avevamo scritto prima proviamo a scrivere vai a nord ovviamente dovrei scrivere vai nord e ecco qui dice è troppo buio per muoversi quindi ha letto vai ha capito che volevamo spostarci ma l'unica azione che fa vai in questa situazione scrivere troppo buio per muoversi proviamo a scrivere salta e vedete che ha risposto non capisco il verbo salta perché salta non era nell'elenco e infine se scrivo quit ci rivediamo la prossima volta che era la stringa che avrebbe scritto nel caso di quit e notate ci sono davanti io non lo vedete che il programma ha cessato l'esecuzione non c'è più non ci sono più i puntini in cima che dicevano il programma è in esecuzione ecco questo ovviamente solo un'infarinatura di quello che si può fare con rust non abbiamo spiegato le cose più importanti innanzitutto non abbiamo spiegato questo questo split white space che era utilizzato come questa questa funzione no che che separa tutte le varie stringhe all'interno di una stringa separata da spazi quindi funzioni che sono già implementate e che sono utili e che bisognerebbe andare ad approfondire non abbiamo approfondito std io questa libreria standard questo modulo bisognerebbe dire in rust che contiene tante funzioni che permettono di leggere e scrivere dati non abbiamo qui su carlomilanesi github.io in italiano troviamo tante spiegazioni non abbiamo approfondito cosa sono i riferimenti di cui ho citato un attimo i prestiti cos'è il borrowing così fondamentale in rust che evita di perdere memoria perché ci si sbaglia magari in c e in c++ si passano dei riferimenti e poi ci si dimentica di liberare quella memoria provocando bug pazzeschi e non abbiamo parlato ancora prima del possesso chi detiene della memoria chi ha diciamo che è obbligato a liberarla chi può modificarla tutte cose molto importanti in rust non abbiamo parlato sì di format un po ho accennato al fatto che esistono le macro e abbiamo detto che le macro sono come del funzioni ma molto più utili nel senso che possono essere utilizzate per scrivere del codice che scrive altro codice tutte cose molto avanzate noi proveremo probabilmente in un prossimo video se ci sarà interesse su questi argomenti a approfondirli aggiungendo alla nostra avventura testuale qualcosa di più utile che vagare a tentoni nel buio senza potersi muovere senza poter guardare gli oggetti che sono intorno seguendo come vi dicevo questo tutorial che volendo potete andarvi a vedere voi è già molto avanzato in inglese ma si capisce benissimo nei commenti scrivetemi cosa ne pensate di questa cosa se vi interessa se non vi interessa se secondo voi dovrei fare un taglio diverso e non mi resta quindi che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti